Imparare il divertente su Playlist di tweet. Guarda! Tanti? Uno? Due? Tidipura! Siete tutti pronti? Sì! Si parte per una nuova missione. Yeah! Alla scoperta di tanti segreti. Quando si comincia? Che la missione abbia inizio! Volete scoprire il ciclo di vita delle pappane? Col baccello. E se io viveno nella foresta, sapete? Dove vivono i trecchetti? E la magia delle stelle cadenti? Ma come riesci a farlo? E il gioco dei numeri? Non lo so, troppo fa un punto più due punti. Qualche cose da scoprire. Il comando ai papai è molto più divertente e super speciale. Chiedili di collegarsi al nostro sito, poi cliccate nella zona grammi e bambini. Nella sezione giocandosi in bar a casa, potrete divertirvi e imparare con le attività di schede sempre nuove e anche proprie per bambini curiosi come voi. Per farvi fornire un punto più divertente su playhouse. Grazie.